L'ultimo nato in casa Skitrab, Ushimaestro utilizza nuove importanti tecnologie che accompagnano e affiancano quelle ormai positivamente collaudate. Vediamo nel dettaglio quali sono. Attivo Shock Assorber, iBox Torsion Control, Aramide Onecom e tecnologia 14 strati. A queste si affiancano una sciancratura rinnovata, un rivoluzionario profilo, un nuovo sistema di sgancio pelli. L'anima alveolare in Aramide di derivazione aerospaziale è solo uno dei 14 differenti strati che compongono lo sci. Ma la novità ancora tutta da scoprire si chiama Attivo, Active Shock Absorber e si tratta di due elementi in polimero strutturali inseriti in senso longitudinale sui fianchi superiori dello sci. Hanno la funzione di assorbire le vibrazioni e conferire maggiore stabilità allo sci, oltre a svolgere un'importante azione protettiva della struttura. Rispetto alle precedenti versioni, è stata completamente rivista la gabbia esterna di carbonio che prende il nome di High Box dall'alto modulo del carbonio utilizzato. High Box incrementa i valori antitorsionali senza penalizzare la flessibilità dello sci. Più controllo insomma, ma senza rinunciare alla facilità dell'utilizzo. Il sci maestro ha poi un nuovo e rivoluzionario profilo che lo rende ancora più divertente. La punta sale gradualmente per permettere un'entrata progressiva e facilita i nevi difficili e profonde. Anche la sciancratura è stata rinnovata, spostando il punto più largo dello sci a circa 15 cm dalla punta e restringendosi molto più gradualmente verso il centro si ottiene una posizione più centrale e facile da mantenere. Lo sci è inoltre dotato di un nuovo e intuitivo sgancio pelli, ancora più facile da usare in qualsiasi situazione in nivo meteo. Tirando con la mano la fettuccia di sgancio si libera la molla che tiene ancorata la pelle. Si può così sfilarla rapidamente e riporla nello zaino per la successiva salita.